Nelle parole delle beatitudini c'è tutta la novità portata da Cristo. Sono il ritratto di Gesù, la sua forma di vita e sono la via della vera felicità per l'uomo. Lo ha detto Papa Francesco questa mattina nella catechesi dell'udienza generale tenuta in aula a Paolo VI davanti a più di 6.000 fedeli. Dopo la pausa di luglio il Papa ha ripreso le riflessioni sull'origine e la missione della Chiesa parlando della nuova alleanza che Gesù stabilisce con il dono della sua vita. Come Mosè sul Sinei stipula l'alleanza con Dio in forza dei comandamenti ricevuti così Gesù, ha spiegato il Papa, consegna sulla collina in riba al lago di Galilea un insegnamento nuovo che comincia con le beatitudini. Dopo averle fatte ripetere una ad una ai fedeli Papa Francesco ha consigliato di leggere per l'esame di coscienza serale le beatitudini al capitolo 5 di Matteo e al capitolo 25 il protocollo di Gesù sul quale saremo giudicati. Il Signore ci riconoscerà se a nostra volta lo avremmo riconosciuto nel povero, nell'affamato, in chi è indigente ed emarginato, in chi è sofferente e solo. E' questo uno dei criteri fondamentali di verifica della nostra vista cristiana sul quale Gesù ci invita a misurarci ogni giorno. Perché la nuova alleanza è proprio questo, riconoscersi in Cristo avvolti dalla misericordia e dalla compassione di Dio. Nei saluti in arabo il Papa ha chiesto ancora di pregare per la pace in Medio Oriente e al termine ha espresso la sua vicinanza alle popolazioni della provincia cinese dello Yunnan, colpite domenica scorsa da un forte terremoto, pregando per le vittime, i feriti e i familiari.